Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo come cambiare il livello di potenza della VTX tramite uno switch sul radiocomando. Praticamente, per esempio, io tramite questo slider qua del radiocomando, si vede, si, cambio il livello della VTX. Ovviamente voi potete scegliere uno slider o uno switch, come preferite. Io ho scelto uno slider. Adesso apriamo iNav Configurator e vediamo come procedere. Eccoci qua su NF Configurator. Prima di procedere dal configuratore, cerco di spiegare un attimo su questo blocco note cosa voglio fare. Allora, i nostri canali radio hanno un range che va da 1000 a 2000. E noi solitamente abbiamo quattro livelli di potenza, quindi quattro livelli. e perciò dobbiamo dividere questo intervallo tra 1000 e 2000 in quattro sottointervalli. Perciò da 1000 a 1250 è livello 1, da 1250 a 1500 livello 2, da 1500 a 1750 livello 3 e da 1750 a 2000 livello 4. Ok, quindi questo sarà come i nostri range del canale radio dovranno essere per attivare il determinato livello di potenza. Adesso, allora, per prima cosa dobbiamo andare qua e verificare che quando noi muoviamo il nostro switch o il nostro slider, nel mio caso, si muove qua. Vedete? Il canale che vogliamo, quindi il mio è il canale 10, vedete? Adesso, ci dobbiamo assicurare che abbiamo attivato lo smart audio sulla UART in cui abbiamo collegato la nostra trasmittente video. Nel mio caso lo smart audio e se avete una, l'IRC Trump, questo qua. Però nel mio caso lo smart audio va bene, fate il save e un reboot. Io non lo faccio perché già era configurato. Adesso andiamo in programming e facciamo la parte vera e propria del video di programmazione. Allora, innanzitutto dobbiamo, mettiamoci qua anche questo, e iniziamo che noi dobbiamo fare l'intervallo tra 1000 e 1250. Quindi dobbiamo attivare una condizione logica quando ci troviamo in questo intervallo. Siccome non ci interessa avere valori al di sotto di questo intervallo, dovremmo fare semplicemente quando il canale 10 è minore di 1250. Perciò qua seleziono lower than e qua metto, dove sta? Get rcchannel e qua metto il mio canale, nel mio caso 10. Questo corrisponde a questo che si muove qua, ricordate, vedete? Io ho 10, se a voi vi si muove, che ne so, l'8, dovete mettere 8, in tutte quelle volte in cui io metto 10. Perciò, restiamo qua, lower than, get rcchannel, 10. E qui metto quando è minore, quindi di 1000 e 1250, ok? Adesso, questo è il primo intervallo. Adesso dobbiamo fare il secondo intervallo, quindi tra 1250 e 1500. Perciò, dobbiamo fare un greater than, cioè maggiore di, sempre get rcchannel, 10. Maggiore di 1250. E minore di 1500. Sempre 10 qua, ma poi questa volta metto 1500, ok? Adesso, siccome questa condizione logica, la 2, deve essere verificata anche se questa è verificata, perciò qua io metto logic condition 1. Andiamo avanti. Allora, adesso facciamo il terzo intervallo, tra 1500 e 1750. Perciò, sempre come prima, rcchannel 10, greater than, quando è maggiore di 1500. E qua, quando è minore di 1500, ok? 10, quando è minore, scusate, di 1750. Qua, come prima, devo mettere logic condition 3, cioè questo qui. Quindi questa si accende, diciamo, anche se questa è verificata e anche questa è verificata, perché l'ho messa qui. Adesso, facciamo l'ultimo intervallo. Quindi, siccome 2000 è il valore massimo del canale, facciamo semplicemente quando è maggiore di 1750. Perciò, greater than, stessa cosa. E qua, digito, 1750 senza mettere niente qua. Poi, adesso attiviamo i vari livelli di potenza della VTX. Quindi, qua, c'è questa voce qua, set VTX power level. Selezionate il primo livello di potenza, per esempio, 1. Quando 1 deve essere attivato? Quando è attivo questo, ok? E questo si chiama logic condition 0. Poi, facciamo anche quell'altro, livello di potenza 2. Quando questo deve essere attivato? Quando attiva la logic condition 2. Ok? Perché logic condition 2 è formato da questo e questo. Quindi, io devo mettere solo 2. Quindi, qua metto dove sta? 2. Ok? Adesso, andiamo avanti. Quindi, qua, metto la stessa cosa, però logic condition 4. Ok? Che è l'intervallo in cui ne vogliamo che si attiva questo livello di potenza. Oh, qui mi sono dimenticato. Devo aggiungere 3. E qua devo aggiungere 4. E questo in 5. Logic condition 5, che è quella lì, maggiore di 1.750. Ok? Seleziono 5. Poi, verificate che questi sono tutti blu, vedete? E questa roba qua sotto non deve essere uguale per far funzionare questa cosa. Sono altre cose che ho, però l'importante sono le logic condition da 0 a 9, inclusa. Ok? E fate save. Ok, adesso, semplicemente muovendo il mio slider, vedete come cambiano il livello di potenza 1. Vedete? Ed è attiva solamente la prima. Livello di potenza 2 ed attiva questa. Ok? Che è la logic condition 2. che è la stessa che ho qua, per arrivare, per attivare il livello di potenza 2. Poi, 3. Vedete? 3 è attiva questa, che è 4. E qua stiamo a 4. Vedete? Il livello di potenza 3 è attivato quando logic condition 4 è attivo. E infine, 5. Poi, vedete la stessa cosa. Poi, vedete, mentre io muovo, diciamo, lo switch, questi, diciamo, che lampeggiano. Quindi significa che effettivamente sta inviando il comando alla VTX. Adesso, se provate a fare, se provate questa cosa, non vi funzionerà senza armare almeno una volta. Almeno nel mio caso è così. Perché se poi andate nella schermata Configuration, andiamo in basso, vedete? Abbiamo questa schermata dedicata alla VTX, in cui, vabbè, qua selezionate Banda, Canale e livello di potenza. Ma questo livello di potenza verrà sovrascritto dalle nostre logic condition che abbiamo appena fatto. E qua, vedete, abbiamo questa opzione che dice che utilizza il livello minimo prima del primo arm. Cioè, il nostro drone, appena connecchiamo la lipo, sarà sempre a livello di potenza 1. Poi, armiamo e andrà al livello di potenza che abbiamo selezionato tramite lo switch. Perciò, per vedere effettivamente che le nostre logic condition funzionano, dobbiamo almeno armare una volta il drone e poi disarmare. Se avete questa opzione, io ce l'ho. Altrimenti, fate questo qui, disabled, e non avete questo vincolo. Però io preferisco lasciarlo sempre qua, su Until Fist Arm. Ok, allora, adesso ho armato e disarmato il quad. Alimentando la VTX, vedete che la mia emette un LED verde, una luce verde. Quella luce verde indica che la VTX sta a livello di potenza minimo 25mW. Ogni VTX solitamente ha un LED che indica lo stato di potenza. Perciò, adesso, se io cambio dal radiocomando e muovo il mio stick, o il mio slider nel mio caso, vedrete che questo LED cambierà colore. Allora, adesso è verde, vedete? Poi, quindi sto a livello di potenza 1. Adesso vado al livello di potenza 2, che diventa giallo. Non so se si vede dal video. Poi il livello di potenza 3, che diventa rosso. Eccolo. E poi l'ultimo livello di potenza, che diventa un violetto. Ok? Quindi funziona. Spero che questo video vi è tornato utile. Come avete visto, con il programma in framework possiamo fare tantissime cose. Abbiamo visto in un vecchio video come cambiare il livello di potenza video tramite l'RSSI del radiocomando. Oggi abbiamo visto tramite lo switch del radiocomando, però comunque le potenzialità di questa features sono tantissime. Ok? Ci vediamo al prossimo video. Ciao!